I figi postali, la chiesetta di Santa Barbara e il vecchio asilo. Questo è l'ingresso della Galleria Villa Mari. Osservate questo pozzo, cui è sceso Papa Vipila, Papa Giovanni Paolo II. Questa è una volta, è l'ingresso sedale dell'ingresso. L'altra piccola porta. Ora ci troviamo all'interno della miniera e questi sono i suoi vecchi impiagni. Questa è una volta, è l'ingresso della miniera e questi sono i suoi vecchi impiagni. Questa è una volta, è l'ingresso della miniera e questi sono i suoi vecchi impiagni. Ma le bellezze di questa miniera non finiscono solo all'esterno. Il sottosuolo, infatti, nascondeva tanti tesori. Solo per noi, su gentile concessione di un ex minatore, il signor Luciano Rosas ci fa minare la sua collezione personale di minerali trovati nelle gallerie di questa miniera. Il sottosuolo, infatti, è l'ingresso della miniera. Sottosuolo, infatti, è l'ingresso di un'ingresso. Alla prossima, è il signorio di un'ingresso. La mia collezione di un'ingresso di un'ingresso che si possono da fare con un'ingresso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.